salve a tutti e benvenuti dopo tanto mannaggia a te che ti metti sempre nei posti più disparati salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video ok che dire come avete letto tutto dal titolo ovvero un nuovo modifica al computer nel vero senso della parola è il bello che ho fatto tutto di mano mia cioè niente di particolare può farlo con chiunque di voi però a me ha fatto molto piacere farlo anche perché così mi sono semplificato mi sono semplificato molto mi sono semplificato molto la vita specialmente per il canale ok allora io tecnicamente sto registrando quest'altro schermo ok se noi adesso qui infatti vedete ci sta la cartella buon natale che sarebbe appunto il video che sto registrando in questo momento ok allora il computer se noi andiamo a proprietare il sistema voi vi ricordavate quanto c'era di giga che lo dicevo sempre ovvero 4 giga guardate ora 6 giga si ho aggiunto 2 giga di ram e un'altra cosetta ho aggiunto questa qua non so se riuscite a vederla c'è la ventolina per affreddare i computer che infatti oh non vedete anche in goduria se se riuscite a sentirla vabbè comunque ho aggiunto appunto la nuova ventolina però come vedete la classificazione è rimasta sempre 3.8 perchè questo perchè perchè per via della scheda video perchè la scheda video è una m***a puttana eva vabbè dettagli allora un'altra cosa che ho scoperto che con camstasia c'è già inserito di suo a me fa molto piacere il green screen nel senso che posso utilizzare il green screen voi direte in che senso nel senso che appunto posso utilizzare green screen e molto probabilmente visto che qui la stanza le pareti sono azzurre che appunto è l'alternativa al verde non ho neanche bisogno di mettere un telo verde o queste stronzate qua perchè alla fine basta che libero il muro e gioco è fatto perchè poi mi metto io dove voglio e gioco è fatto ehm ma pensavo più che altro ah vedo che anche di qua è azzurro il muro ma nel caso metto un telo azzurro di nuovo praticamente voglio ehm girare questa questa scrivania voglio girarla in modo che dietro abbiate sfondo azzurro poi magari ci metterò un quadro qualcosa ecco ehm così che appunto ah ecco poi così è una soluzione anche per far funzionare questa nuova ventolina che ho messo ehm è appena tornata mia madre dal da un posto comunque ehm niente volevo dirvi questa cosetta questo paio di cosette i video che cominceranno l'anno prossimo ehm o almeno spero perchè comunque se voglio mettere anche windows 10 qui nel nel fisso non solo nel portatile perchè il portatile la ripara in questo momento e mia madre serve un computer quindi non posso farlo non posso mandarlo adesso però posso mandarlo ehm posso metterci windows 10 ehm appunto ehm in successione cioè lo metterò successivamente però intanto mi sono regalato una randa 2 giga e una ventolina che per chi se lo chiedesse la rama in questione ehm la valius le oh dio scusate portate il microfono ovvero ehm questa qua ed è fatta in taiwan quindi vi datevi conto e questa ventolina qua questa qui viene 25 euro e questa viene 8 euro scusate tanto eh devo chiudere il video perchè altrimenti le figure di merda sono quelle più totali ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.